Sì, siamo in finale, siamo veramente contenti, poi siamo state molto brave, abbiamo fatto una partita spettacolare oggi, chiederla così bene in casa fa sempre piacere. Una nota di merito a te personalmente, perché si parla spesso del vostro reparto difensivo, del vostro muro, del vostro attacco, però se oggi è funzionato tutto a dovere, dal nostro punto di vista è molto merito tuo. Grazie, io cerco sempre di dare il massimo, poi io lo dico sempre, ho degli attaccanti fortissimi, quindi sono anche molto fortunata. Che effetto ti fa andare a giocare questa finale a Scudetto dopo una stagione da grande protagonista, sempre titolare, sempre sul pezzo? Beh, sicuramente c'è tanta emozione, però c'è anche la consapevolezza di essere una squadra forte, quindi uno si diverte a giocare e adesso che siamo arrivati finalmente alla fine di una grandissima stagione ci divertiamo veramente. Ci sono ancora invece le vostre avversarie da decidere, la seconda semifinale ancora deve esprimere il suo verdetto e tu hai una preferenza? No, non ho nessuna preferenza, perché comunque le squadre forti vincono contro tutti, quindi per noi, per essere veramente migliori, dobbiamo vincere sia che sarà Conegliano che sarà Casabaggiore, quindi chi arriva noi giocheremo al massimo. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie a tutti.